Il Beater Forever è il mio secondo singolo estratto dal mio nuovo album, My Shelter. Praticamente è una dedica a tutti i papà, in particolare al mio, con il quale ho un rapporto molto stretto e particolare. Dopo la separazione di miei genitori ho cominciato a scrivere i miei testi e ho scritto questo pezzo che poi ho ripreso e ho aggiunto il mio nuovo album. Mentre questo disco prodotto da Solmatica, l'etichetta di Ginda Bash, ho cercato di riprendere quelle che sono le mie radici che comunque vengono dal folk e da altra black music. Ho cercato di unirle a suoni molto più moderni. Questo album è praticamente un percorso, questo tatuaggio che mi sono fatto da poco è proprio la copertina. Sarebbe praticamente un percorso che parte dal perimetro della chitarra e arriva al rifugio sulla casa sull'albero, che si chiama My Shelter. La chitarra è a metà perché questo percorso che parte dal perimetro è già iniziato, magari con lo scorso disco. Una volta arrivato al dodicesimo tasto mi trovo nel dubbio. O salire verso, diciamo, lo shelter, quindi o intraprendere un cambiamento, oppure continuare sulla stessa strada, quindi sullo stesso perimetro, che è un circuito chiuso. Quindi magari posso anche scendere e non vedermi più. Una volta che arrivo, diciamo, i pezzi sono distribuiti in salita, quindi per capire la storia del disco bisogna ascoltarlo al contrario. Quindi dal undicesimo pezzo al primo pezzo. Una volta arrivato qui, praticamente io sono come nella copertina del disco, con la chitarra sopra questa casa sull'albero, a godere proprio della bellezza del mio cambiamento. Io prima comunque era molto, diciamo, più addentrato con certe idee, soprattutto risalenti alla filosofia del reggae. Ok, e ora, diciamo, mi sono un po' aperto sia come suoni di questo disco e sia comunque come mentalità. Quindi, diciamo, cerco di vivere sempre, diciamo, qualsiasi cosa, diciamo, nella maniera proprio positiva. Ora ripartirò dall'8 luglio con le varie date con la mia band. Apriremo qualche concerto ai Boom da Bash quest'estate e poi faremo anche altre aperture, Holly Cook, il giro per l'Italia. Sta in cantiere qualcosa anche in Europa che sarà verso fine agosto, inizio settembre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. One love, this is Junior B. What?